Musica Venerdì 4 luglio, Santa Elisabetta. È il 185esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 180 al termine. Il sole sorge alle 5.28 e tramonta alle 21.02. La luna si leva alle 12.28 e tramonta a mezzanotte. In piccagione di Pier Fortunato Calvi, organizzatore e direttore dell'insurrezione della resistenza agli austriaci nel Cadore. Più tardi partecipò alla difesa di Venezia, combattendo a Mestere, Brondolo e Treporti, meritandosi la promozione a colonnello. Nel 1853 viene catturato dagli austriaci e condannato a morte. Le previsioni per domani. Nella notte, fino alle prime ore del mattino, residuo a variabilità, poi tempo in prevalenza soleggiato, salvo annuvolamenti sparsi in montagna e locali in pianura dal pomeriggio. Precipitazioni. Nelle prime ore è possibile qualche residuo a locali pioggia, in seguito a precipitazioni assenti, salvo probabilità in nuovo aumento fino a medio-bassa dal pomeriggio, sui settori dolomitici e bassa, su zone prealpine, per qualche rovescio o locale temporale. Temperature minime in moderato aumento, massime in lieve aumento sulle zone pianeggianti, stazionario o in continuo calo su quelle montane. Nel 1853 Nel 1853 Nel 1853 Nel 1853